Benvenuto sul canale dei Senza Tempo Live, un team di intrattenimento per matrimoni. Ciao, sono Giovanni Tufaro, il responsabile del team. Con l'iscrizione a questo canale avrai accesso a tanti video musicali, ma soprattutto avrai accesso a tanti consigli sulla scelta della musica per il tuo evento. Quello che devi fare è molto semplice, iscriviti al canale e poi attiva le notifiche dalla campanellina così non perderai i prossimi video. Iscriviti adesso e ci vediamo all'interno del canale. Ciao!